spero che siete il più possibile ma per un fattore di sesso voglio di sesso si ragazzi faremo sesso appunto qui in questa sede a maggio metà maggio fine maggio 19 maggio mi date tanto sesso perché voglio un po che io comunque ragazzi sono abituato a sesso mia moglie incinta in live considerate che per me è brutto il sesso lo faremo sono qui ragazzi prendo lo studio apposta perché qua siamo stretti io posso permettermi di fare determinate cose in live condividere tutto nella vita con voi soprattutto le cose che mi fanno sesso voglio darvi un po quella gioia lo faremo dobbiamo organizzarlo lo faremo e suona suona molto strano dire sesso figli ok sono molto strano e io posso permettermi di fare determinate cose per cui ragazzi gabo di square colpisce ancora ragazzi grazie mille a tutti ciao eeeh grazie mille a tutti